A volte il destino non bussa alla porta, è lì, in silenzio, che aspetta ad essere scoperto. Esistono storie non scritte, vite in attesa di un solo sguardo che possa cambiarle per sempre. A volte ciò di cui abbiamo più bisogno è qualcosa che non sappiamo ancora di cercare. I protagonisti del video sono loro, gli ospiti a quattro zampe del canile del Casentino. Si tratta del video promozionale realizzato da Mauro Manzo che ha messo a disposizione la sua professionalità per realizzare il progetto a sostegno della realtà nata vent'anni fa. Il canile comprensoriale del Casentino è infatti nato nel 2004 grazie ad un gruppo di volontari. Nel corso degli anni è cresciuto anche grazie alla collaborazione con l'Unione dei Comuni ed ovviamente al supporto della popolazione casentinese. Nel corso degli anni è cresciuto anche grazie a tutti.